l'arcivescovo di salerno monsignor andrea bellandi sarà ospite della parrocchia di santa maria delle grazie ad agropoli per la presentazione del libro andiamo da giuseppe riflessioni in occasione dell'anno giuseppino il testo curato da monsignor bellandi è arricchito dai contributi della teologa lorella parente docente presso l'istituto superiore di scienze religiose san matteo di salerno e dal biblista donna antonio landi docente presso la pontificia università urbaniana nel corso della serata gli autori si confronteranno sull'importanza di questa figura che papa francesco ha voluto porre in quest'anno alla riflessione e alla devozione dei fedeli di tutta la chiesa universale un'occasione per incontrare il padre putativo di gesù marito di maria la cui fede e la cui cura paterna sono esempio e monito per ogni credente attraverso un cammino biblico e teologico si mostrerà la centralità di san giuseppe cui è molto legata alla devozione popolare anche nel cilento e nella diocesi di vallo della lucania che nella persona del vescovo monsignor ciro miniero non ha fatto mancare il forte incoraggiamento all'iniziativa l'evento promosso grazie alla collaborazione tra l'istituto superiore di scienze religiose san matteo di salerno l'ufficio cultura e arte dell'arcidiocesi di salerno campagna e acerno e dal festival della teologia incontri sarà introdotto dal parroco don bruno lancuba che è anche direttore dell'istituto accademico san matteo collegato alla pontificia facoltà teologica nell'italia meridionale nell'occasione ci sarà anche la formale inaugurazione dell'anno catechistico e pastorale 2021 2022 della parrocchia agropolese con la partecipazione delle diverse associazioni e movimenti presenti in parrocchia l'appuntamento è alle ore 18 e 30 al termine della celebrazione eucaristica delle 18